è sicuramente una delle piaghe dei nostri tempi quella rappresentata dagli incidenti sul posto di lavoro da tempo le istituzioni approfondiscono i temi legati soprattutto a due aspetti la formazione dei lavoratori e la prevenzione in questo senso si inquadra l'importante protocollo d'intesa firmato quest'oggi in prefettura volto a migliorare la sicurezza sul lavoro nelle aziende che operano nel porto di taranto un'idea dell'asla ionica del comando della guardia costiera e dell'autorità di sistema del porto di taranto e che ha visto il coinvolgimento di inail imps dell'ispettorato del lavoro e dei vigili del fuoco questo è un protocollo che di cui la prefettura ha curato il coordinamento perché gli attori coinvolti sono diversi in materia di sicurezza portuale è il fondamentale essenziale contributo dell'asle della capitania di porto ma dell'autorità portuale e degli altri enti coinvolti fa sì che si costituisca una vera e propria rete che in sinergia affronti l'argomento della formazione delle imprese che lavorano in ambito portuale per accrescere la sicurezza proprio con degli eventi di formazione e delle attività congiunte perché diverse sono le competenze ma assommarle e coordinarle in un unico come dire filo conduttore è senz'altro rilevantissimo la materia della sicurezza del lavoro è sempre all'attenzione della prefettura e quindi questa è un'iniziativa rilevante che rientra proprio nell'ambito di questa attività. L'intento del protocollo è proprio questo creare una sinergia permanente tra le istituzioni in modo tale che gli interventi siano coordinati. Il protocollo firmato alla presenza del prefetto di Taranto Paola Desi prevede l'attuazione di un piano mirato di prevenzione attraverso un modello territoriale partecipativo di assistenza e supporto alle imprese con attività di formazione e l'utilizzo di un'interessante piattaforma per l'analisi dei rischi operativi e degli incidenti evitati per poco in modo ad attrarne le necessarie modifiche comportamentali.